In una delle giornate più difficili per Rimini dal punto di vista del traffico stradale, quella che vede l'apertura del SIGEP nel quartiere feristico, le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero dei dipendenti di Start Romagna addetti al trasporto pubblico locale. Anche le linee di autobus che arrivano ai padiglioni del Salone del Gelato potrebbero subire delle limitazioni tra le ore 9 e 13 di sabato. CGL, CISL, UIL, CISAL, USP e UGL chiedono che agli autisti del metromare venga corrisposta un'indennità di guida specifica per i mezzi di 18 metri, come già avviene a Frolicesena. Inoltre domandano la distribuzione del premio di produzione dei biglietti venduti a bordo ad oggi ferma al 2017. Viene lamentata anche la carenza di personale che impedirebbe ai dipendenti di usufruire delle fere. Ad oggi sono 6.000 le giornate di fere arretrate nel bacino riminese. Ad essere assicurato sabato mattina è il trasporto degli studenti. Lo sciopero inciderà invece sul piano straordinario della mobilità presentato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale per fare fronte agli oltre 200.000 visitatori del SIGEP. Gli unici mezzi garantiti saranno il treno Cattolica Sant'Arcangelo e lo shuttle 9 Fiera che collega quest'ultima alla stazione di Rimini. Mentre il metromare, oltre alle linee dei bus 5, 9, 10 e 11, potrà subire delle limitazioni.